di inclusione difficile, infatti la norma dell'immigrazione anche dopo il decreto cutro ma comunque dal 2016 prevede due sistemazioni, due cose completamente diverse, o CAS o SAI. I CAS sono i centri di accoglienza straordinaria i SAI sono i servizi di accoglienza e integrazione guarda caso. Una cosa la fa solo l'operatore che partecipa alla gara e la prefettura assegna bypassando il comune e una cosa invece è il SAI. Quando un comune vuole gestire con serietà pensare all'integrazione, controllare i numeri ed essere sensibile e rispettoso di quello che è lo scopo dell'integrazione e della socializzazione e quindi recuperare l'accoglienza, pensa di fare un SAI, lo fa come comune e lo fa